sloveno anche coreografia Casper il cane Thomas vedi che c'è sintonia, fluidità, divertimento questo si chiama flip vedi il cane fa un bellissimo salto leg bolt ancora se ne sbaglia uno un back bolt appoggiati sulla schiena è un passaggio eccezionale questo connetto Jack Russell Parson flip guarda che bel passaggio questo questo chiaramente è un cane di quel peso te lo consente di poter fare è altamente spettacolare su questo non vedo più alcuno è anche molto bravo devo dire non perde un colpo sempre un leg bolt con un flip un black bolt qui la fantasia del conduttore certo si diverte il cane la sensazione è questa beh si sai c'è il distinto predatorio Riccardo che è la padda padrona devo dire ringraziamo il responsabile Xen per il disc dog Barbara Soprani e Diego Marchetti abbiamo visto anche poi c'è l'altra disciplina che si chiama distance dog il cane deve prendere il disco ci sono una specie di esagono con delle prime linee e oltre i 20 metri il cane ha 30 punti i 30 metri 40 ah scusa 22 punti ah i 30 metri 3 punti e i 40 e i 5 punti grazie a tutti